Un incontro tra cinema e musica, così è stato l'evento che si è svolto nei giorni scorsi all'auditorium del Rettorato dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, nell'ambito del Festival Alessandro Cicognini, diretto dal maestro Davide Cavuti. Protagonista dell'incontro con gli studenti del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, il DILAS, presentato dalla giornalista Mila Cantagallo, è stato l'attore e regista Michele Placido. Per me oggi è un bel regalo che mi ha fatto l'Università di Chieti. Ecco, per esempio, nello studio di Carmine Catenanci ho visto un libro, Pindaro, io amo la poesia. Mi sono fatto le prime mie esperienze in arte, sono sulla poesia. Da Pindaro alla poesia greca, dalla poesia greca fino ad attraversare Dante. Anche se il mio poeta preferito era Giovanni Pascoli. Ma detto questo, oggi è una giornata di festa per me. Spero adesso, non vedo l'ora di incontrare i ragazzi, raccontare un po' il mio percorso cinematografico, che vanno, insomma, grandi registi, Conicelli, Fratelli Daviani, Bellocchio, grandi maestri con cui ho lavorato, come De Sica, insomma, che è stato mio maestro. Sono molto lieto di dare il benvenuto al nostro ospite, Michele Placido, una delle più importanti personalità del cinema, del teatro, della televisione italiana di questi anni. La sua presenza è molto importante per noi perché si inserisce all'interno dei corsi di studio, delle attività formative dei nostri corsi di studio. In particolare, il corso di laurea in lettere ha un indirizzo in linguaggi della musica, dello spettacolo e dei media. Inoltre abbiamo dei corsi di studio in storia dell'arte, quindi oggi sarà un'occasione eccellente per discutere del film di Michele Placido che è nelle sale, cioè l'ombra di Caravaggio, insieme ai nostri studenti e ai nostri docenti di storia dell'arte. Sono molto onorato di essere qui in rappresentanza del premio Penne Mosca, da me diretto, con il quale Davide Cavuti e con l'Università, rappresentata qui dal direttore del Dipartimento di Lettere, DILAS, il professor Carmine Catenacci, abbiamo organizzato questa bellissima manifestazione che è l'ultimo anello della lunga catena che ha visto da noi Carlo Verdone, Giancarlo Giannini, Pupi Avati, Benigni l'anno scorso e tanti altri grandi mostri sacri del cinema e della letteratura. E veramente sono molto contento di partecipare a questa iniziativa. È un onore che il Festival Cicognini possa realizzarsi qui all'interno di un'Università d'Annunzio. Ringrazio il direttore del Dipartimento, DILAS, il professor Catenacci e il premio Penne, diretto dal professor Sorella, per aver contribuito alla realizzazione di questo incontro, tra cinema e musica, con Michele Placido, in ricordo e in omaggio al grande compositore Alessandro Cicognini.